Stiamo partecipando a questo evento che è la prima edizione di Stronart e sarà ripetuto ogni anno. Stiamo lavorando sull'ambiente, sul tema del riciclo. Questo Morales, se lo vedete, stiamo parlando sul tema dell'ambiente, del clima, che bisogna sempre fare la differenziata per arrivare ad avere un'aria che non si può respirare, che è usare questa maschera, soprattutto che abbiamo già usato, e questa mamma, insieme con la sua bambina, che sempre, anche questo è un messaggio, perché sempre con il telefonino, perché purtroppo, questo è, diciamo, anche noi, perché stiamo cercando di utilizzarlo di meno, e loro sono i miei amici, che lui arriva da Palma di Mallorca, che è anche lui, lui è un artista, sculture, fa tutte le cose col metallo, e lui, mio amico, che arriva da Bruxelles, del Belgio, lei è un artista, mia amica, che arriva da Parigi, in Francia, e ci troviamo tutti insieme per realizzare questo evento qua, che abbiamo fatto questo Morales, e anche un altro Morales, basso rilievo, e anche un'altra scultura. Caudra, adesso magari può vedere qualcosa? Buongiorno, io mi presento a una città come questa, un artiste peintre e architetta d'interiore. Io sono marocco-françaisa, io sono parmi voi qui, con un piacere. Io ho trovato la gioia qui è stata molto felice, ho capito di parteciare le cose con le persone qui. Quindi, e soprattutto, accresciandomi la giornata di terra. C'è la mia esperienza, è un'unico. Qui è molto bella. Tariq Saki, belgo marocco e del Casablanca sono direttore artistico e anche artiste peintre e Rachid ci ha dato la chance per vivere questa bella esperienza con tutti, soprattutto il contatto con gli altri via questa peintura murale e questa bella energia che abbiamo visto insieme, e prende l'anima Salute Salute Viva l'Italia, viva l'Italia Attendo, mangiare bene, in Italia e tutto ciò che abbiamo visto, è che riuscire bene e lavorare anche Ciao 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 Mi chiamo Abdel Felitti Vengo da Mallorca Sono spagnolo marroquese e sono scultor di metà e ho venuto con molto piacere portare un po' di grano in questo evento e le diamo la grazia a Rachid perché ha contato con noi e è un piacere realizzare un lavoro in questa zona la verdad la gente è super amabile super encantadora molto humilde e molta paz si sente molta energia qui e molta paz e un piacere essere in questo evento e doi la grazia di poter incontrarmi con questi amici la verità che non li conosco per niente e è un gran placer vivere questa esperienza con loro Un saluto che ho dimenticato che ho presentato perché loro hanno presentato che sono francese e anche marocchini e anche io sono italiano e talo marocchino e soprattutto anche biellesi e piemontesi grazie a te ciao ciao